Per una grandissima serata di sport che chiude il 2017 pallavolistico. Riceve Randazzo, Travizza, palla dietro Nelly, prova a spingere il pallonetto, l'autocopertura di Zaitsev. Poi qui si inventa un tocco, Cirovic se la cava in qualche modo, Travizza, poi Randazzo ci arriva Volpato. Ancora Randazzo in volo, mette il pallone dalla parte opposta. E poi grande giocata di Dececo che velocizza e mette il primo tempo su Anzani. Che bello, che bello, veramente bella azione a parte l'appoggio di Cirovic da Luci Rosse. Però anche questo recupero, sì, sì, veramente notevole. Bravo anche Randazzo. E poi il primo tempo che Dececo serve, tutt'altro che scoperta.